ammiraglio per iniziare ora siamo qui a questo convegno per parlare di venezia e porto come la situazione del porto di venezia ma è la situazione del porto di venezia io la guardo sempre con grande positività nel senso che stiamo lavorando molto insieme all'autorità di sistema portuale e credo che i risultati si possono già vedere c'è quello che il reperimento di alcune banchine da dedicare al traffico croceristico ormai di fatto è una realtà il porto ha continuato a lavorare ha continuato a lavorare durante la pandemia e sta mantenendo assolutamente i suoi traffici sono stati effettuati gli escavi manutentivi proprio oggi ho firmato un'ordinanza per riportare gli escavi di pescaggi al ai numeri originari del 2018 quindi cerchiamo di intravedere anche dei segnali di luce a seguito di tanto lavoro c'era un po' di preoccupazione per quanto riguarda le crociere da un gatto però anche un entusiasmo per i fondi in arrivo per il porto che sicuramente la nomina del presidente di blasio non solo come presidente autorità portuale ma anche come commissario con un pacchetto di fondi sicuramente importanti a sua disposizione beh questo insomma è un segnale da parte dell'esecutivo del governo estremamente importante e che ci consente di poter lavorare e impostare il futuro in modo in modo ottimale gli agenti marittimi qui oggi stanno un po affrontando un quadro della situazione della situazione attuale anche delle difficoltà che ci sono ovviamente siete qui anche per dire che siete al loro fianco beh per gli agenti marittimi per le capitani agenti marittimi sono un punto di riferimento l'operatività del porto si gioca molto grazie a loro grazie ai servizi tecnico nautici sono elementi fondamentali con i quali ci confrontiamo tutti i giorni e che svolgono anche delle attività proprio di garanzia nei confronti delle navi che scalano che scalano i porti per cui sono per noi assolutamente punti di riferimento oggi è una giornata è una giornata anche un po particolare per il debutto del green pass che in altri luoghi per esempio il porto di trieste sta creando un ampio dibattito dal punto di vista veneziano e veneto come dal momento a questo in questo punto non abbiamo segnali di particolari preoccupazioni legati legati al porto e questo ci conforta speriamo di continuare a dimostrare quell'immagine di resilienza che il porto di venezia nel corso della pandemia ha già dimostrato e quindi di capacità di poter operare in ogni condizione perché i porti sono delle vie di accesso fondamentali per lo stato non solo per lo porto di chioggia che mi sono un po siamo un po dimenticati che mi sono dimenticato per il porto di chioggia come la situazione invece di porto di chioggia non ce ne siamo affatto dimenticati il porto di chioggia soffre di alcune problematiche che sono molto vicine a quelle di di venezia l'escavo molto attentivo dei canali di chioggia è un aspetto essenziale stiamo vedendo di poter individuare del traffico croceristico che possa scalare anche il porto di chioggia e questo potrebbe in futuro sicuramente diventare una realtà come vede per concludere il futuro dei porti di venezia e chioggia nei prossimi anni camminario per i sali i quali versanti dovrà far fronte beh credo che allora credo che questi questi passaggi che stanno accadendo proprio in questo momento devono rispondere proprio a questa domanda qual è il futuro che vogliamo dare al ai porti di venezia e chioggia credo che insieme al presidente di blasio questa insieme al ministero alla dottoressa bramezza che sta coordinando i tavoli tecnici proprio finalizzati a dare risposte in questo senso credo che sia il momento giusto per il momento sia venuto per dare risposte concrete a questa questa domanda comunque immagino un buon futuro assolutamente non dobbiamo rimanere positivi dobbiamo pensare a tutto quello ciò che vuol dire la portualità veneziana nell'ambito non solo dell'economia veneta ma anche di tutta la pianura padana e nazionale unitamente al porto di chioggia grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti